Le scuole al centro dell'attenzione dell'amministrazione comunale Aretina. La lunga estate di Cantieri sta per concludersi così ad una settimana dalla riapertura delle scuole. È tempo di volgere lo sguardo verso i lavori compiuti, partendo dall'ultimo intervento in ordine cronologico, quello che ha interessato la scuola per l'infanzia dell'Orciolaia. Nello specifico in questa scuola abbiamo rifatto due blocchi di bagni, è stato realizzato un bagno nuovo a servizio della cucina che è stata rinnovata lo scorso anno. Abbiamo messo mano a reseda esterno con qualche gioco in più, toltre le ceppai, quindi sono stati fatti vari interventi per un importo complessivo di quasi 50 mila euro. Quando interveniamo sulle scuole, oltre all'aspetto esteriore, quindi rivestimenti e pavimenti, rifacciamo tutti gli impianti, anche qui è previsto l'adeguamento dell'impianto antincendio. Quindi sono interventi che non sono visibili, ma con molta attenzione alla sicurezza e all'adeguamento normativo. Complessivamente il Comune di Arezzo ha speso per gli interventi all'interno delle scuole comunali un milione e mezzo di euro. Quest'anno siamo intervenuti a Olmo, a Stagiano, a Ceciliano, a Leonardo Bruni, a Salleo, a Indicatore, alla palestra del Cisalpino. Sono state tante le scuole all'interno delle quali siamo intervenuti, che sono state oggetto di riqualificazione complessiva. In particolare spesso siamo intervenuti per riqualificare bagni piuttosto che resede, come in questo caso, ma in alcuni casi anche per rendere più sicuri i plessi scolastici o le palestre nel caso della Cisalpino. Si vedono male questi interventi perché vengono percepiti unicamente dai bambini e dalle famiglie che gravitano intorno alle scuole, però c'è una particolare attenzione dell'amministrazione per rendere più gradevoli e più sicuri, nei limiti del possibile, le scuole del territorio.